Vedi, vedi. Dopo questo, allora ti bisogna dare ragione a quell'articolo che abbiamo letto prima. Gli italiani sono analfabeti. Aspetta prima di salutare che devo salvare il tuo matrimonio. Perché? Allora, stasera c'è l'anteprima di On Air. Alle 16 trovate sulla pagina Facebook lo Zodi 105, il secondo video dei backstage realizzati durante le riprese. Pensavo stessi per dire che mi avevano sgamato con la negra ieri sera. No, no, no. Così salvavo il matrimonio di Paolo. Perché nelle foto sembravi tu. Dona, vieni qua un secondo. Dai, scusami, perché c'è un regalo che ti ha consegnato un ascoltatore. Vorrei dire una cosa, Marco. A parte che sono commosso per la tesi di Pecora e vorrei leggere a tutti quanti il passaggio che preferisco io della sua tesi. Voglio condividere con tutti, posso? No, non strapparlo, eh. Senti che per passaggio... No, no, no. No! Hai strappato la tesi di Pecora! Ma sei scemo! No! Ti hai strappato la pagina! Dona! Ma che fango sei! No! Ma sei un fango! Dona! Tutto bene, tanto è solo carta. Ma ci si deve laureare! Dona! Ah, un'altra coppia! Ma vaffanculo, ma... Dammi una pagina che mi ci pulisco il culo! Ma avrà speso un sacco di soldi, bravo! Ma guarda che sei un merda! Guarda che è un figlio di puttana! Ma guarda Pecora come ci è rimasto male! Ma piccolino! Pecora, vieni qua a salutare! Dai, vieni, vieni! Ma quale pagina strappato! Ma che merda che è! È vero, è vero! No, come... E' un cinico di merda! Bravo! No, vieni qua a salutare invece! Ci sono degli ascoltatori che... Beh, allora Martina Cosentino, che mi ha fatto un culo l'altra volta, nel 2011 sono stato qui in diretta! Sì, poi... Ho salutato! Poi rompi i coglioni di pignataro, tutto il giorno salutami, salutami! E poi, no, è... Iva volta, i soliti! Eh no, diri tutti, dai, vai, vai! Ah, non c'è tempo! Vedi, Pippo taglia! Ma tu rispetto i suoi... Non rispetto nemmeno io i suoi tempi! Ma Pippo taglia! Deve morire! Anche gli ascoltatori lo sai! Oggi l'ho pestato in onda, ti strappo tutti i fili, bastardo! Noi ci risentiamo domani, dalle due le quattro, grazie a quella merda di Pippo Palmieri! Ma domani, amici, ciao! Ma Spine? Spine? Si è operato ieri tutto a posto, mi sa che esce domani! Ma dai, si è andata bene, tutto a posto! Ma c'ha la mano rastrella adesso! Cioè, pensa a cosa ha fatto per non venire a vedere il film! Incredibile! Grazie a Wender! Ciao, scema! Ciao, sempre tutto in ordine! Grazie a Dallan Caligiuri, Marco Dona, cinico di merda, bastardo! Fabio Lisei! Citi! Grazie a... Come diciamo? Graziella! Grazie! Graziella Podcast! Grazie a Graziella Podcast! Ricordatevi, se siete veri amici, cazzi nelle tasche! Vale! Ci risentiamo domani, grazie alla culpa di Viaturati e soprattutto alla grande famiglia sulla pagina di Facebook! E grazie a Marco Massani! Il genio! Pierluigi Pecola! Ciao! La puzzola dello zoo! Ciao! Ciao! A domani, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Uè, Pippo, grazie per aver mandato in lupo il mio numero, così magari qualche bella figa mi contatta! No! Ciao, ragazzi, grazie a bestia! Ciao! Ma sei un cretino, si fa! È colpa sua, non è colpa mia! Ciao, domani! Allora, denuncia Vincenzo! 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 Vincenzo!